Musica Sicurezza, dosi chiama Rosato, il sindaco ha chiesto aiuto all'ex questore che avrà un ruolo apolitico super partes e gratuito. Ci metterò impegno ed entusiasmo, ha dichiarato Rosato. Bottigliate al ristorante, due arresti, zio e nipote non volevano pagare il conto e hanno dato in escandescenza e colpendo anche i camerieri. Italy, 66 i lavoratori, 8 sono a tempo indeterminato, 35 a tempo determinato, 6 apprendisti e 17 interinali. Ecco la fotografia del personale del negozio inaugurato a fine settembre. Castelli, coordinatore dei piccoli comuni, incarico nazionale per il sindaco di Cerignale che ha dichiarato fin da subito guerra all'Immu Agricola. Giovani artisti per la Caritas, i ragazzi del liceo Cassinari hanno realizzato dei pannelli per la mensa della Fraternità. Gilardino per ora non torno, c'era anche il campione del mondo, attualmente impegnato nel campionato cinese, alla cena benefica organizzata ieri sera dall'associazione William Bottigelli. Grazie a tutti!